Io voglio dirvi che sono fiera di voi, che sono fiera della dedizione, dell'amore e della passione che mettete ogni giorno nel vostro lavoro e sono perfettamente consapevole che senza di voi non potremmo fare assolutamente niente di quello che vogliamo fare. Quindi grazie da parte mia ma soprattutto grazie da parte degli italiani perché alla fine lavoriamo tutti per lo stesso grande obiettivo, tornare a far pensare, a far vedere questa nazione, a consentire a questa nazione di pensarsi in grande. Forse noi non siamo stati consapevoli sempre di quello che poteva essere il nostro ruolo e di quello che è il nostro ruolo. Oggi forse qualcosa comincia a cambiare e vi garantisco che fa la differenza. Auguro un felice, sereno santo Natale a voi, a tutte le vostre famiglie. Riposatevi perché ovviamente quando torneremo avremo come sempre tantissimo lavoro da fare insieme. Grazie davvero, siete straordinariamente preziosi. Grazie.